Buon pomeriggio a tutti gli amici di Nero Verde Channel, ecco la comitiva della Castellanzese in partenza per Pregnana in vista di questa delicatissima trasferta, vediamo che partono le macchine, trasferta delicata nel testa a testa che porterà Castellanzese e Canazza molto probabilmente alla fine del campionato, speriamo di no, partono i pulmini, vediamo se parte il clacson, niente, colpi di clacson non ce ne sono, siamo partiti, in ritardo resta il camion della nostra redazione, speriamo che questo pomeriggio ce la faccia a portarci a Pogliano, ecco vediamo l'autista della redazione di Nero Verde Channel che sale, siamo in diretta dallo stadio comunale, vediamo se trova la strada, eccolo là, qua la clacsonata arriva di sicuro, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo, partiti!